La serenità di ieri, se si identica a serenità, quindi bene. Durata un'ora, sarà l'ultima audizione? Probabilmente sì, dico probabilmente perché magari invece i commissari nel successivo lavoro di approfondimento chiederanno audizione, ma ad oggi nessuno ha chiesto altre audizioni. E poi? Dopo che sì? Poi studiate le carte, approfondite le carte, la commissione redigerà una commissione che sarà sottoposta all'Aula entro il 9 febbraio, secondo il mandato del Presidente Fontana.